Appena finito l'allenamento, Thomas Beretta è rientrato dalla Nazionale. Come è andato in Giappone? Abbiamo preso il bronzo, quindi è abbastanza bene. È stata lunga, divertente, è un bel torneo. Diciamo che ci siamo giocati con tutte le squadre, perché sono di tutte le squadre del mondo, però è stata veramente una bella esperienza. Domani Modena-Trento? Domani Modena-Trento non ci si ferma mai. Sì, è una bella partita questa, difficile, molto importante, quindi anche se è un po' diffuso, ma ci sono al 100% anche domani. Guillaume Kesk, di fianco a Thomas, domani Modena-Trento. Bella partita. Ci sono i carichi, noi lo siamo e vi aspettiamo tutti qua al palazzo. Grazie.